Culle sempre più vuote nel nostro paese, indicato fra i meno fecondi d'Europa, è una previsione che solo a leggerla fa rabbrividire. A farla l'Aldien Cronos Salute, il presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia Vito Traiano, secondo il quale, dalle proiezioni dell'Istat, si calcola che nel 2225 nascerà l'ultimo italiano. C'è un grosso problema di welfare che non permette alle donne in età fertile di avere un figlio, ha dichiarato, ma sono costretti a rimandare la maternità con tutte le conseguenze che si conoscono. C'è anche il problema della precarietà che influisce sulla scelta di avere un figlio. Insomma, è chiaro che dobbiamo aiutare di più i giovani perché una gravidanza proiettata troppo in là nel tempo abbassa la possibilità del concepimento. I dati allarmanti arrivano anche dalla Società di Neonatologia, che parla addirittura di una strada ormai senza via di ritorno. Il calo di nascite nel nostro paese è iniziato a registrarsi nel 1995, ma a preoccupare è anche l'età media di chi decide di avere il primo figlio, ormai attestata attorno ai 32-33 anni. Un allarme che viene lanciato sia alle femmine che ai maschi, con un appello alle scuole, latitanti su questo tipo di argomenti. Un fenomeno, quello della natività, che non colpisce solo ed esclusivamente cifre statistiche, come riporta l'Osservatorio Economico e Sociale, riparte l'Italia, ma bensì l'intero comparto dell'economia, il PIL, la sanità, il lavoro, l'occupazione, la scuola, le università, le imprese, il welfare, le pensioni, la previdenza e la lista è ancora lunga. Il tema delle culle vuote sta interessando anche molte altre nazioni. In Giappone, ad esempio, dove si registra la percentuale più alta al mondo di anziani, nascono sempre meno bambini, tanto che i marchi di pannolini stanno ormai sempre più spingendo verso una diversificazione delle loro produzioni, girandoli in assorbenti per l'incontinenza. Nell'ultimo decennio, infatti, le vendite di pannolini per adulti hanno superato quelle per i neonati, che solo nello scorso anno hanno subito un calo pari al 5,1%. Il problema non è certamente di facile soluzione. In Italia ogni governo è solito inserire nel proprio programma un riferimento alla natalità, pur dovendo poi fare i conti con debito pubblico e ristrettezze dei fondi disponibili. Ma è chiaro che se non si interverrà sia finanziariamente che culturalmente, non si farà altro che dare atto a questa desertificazione, lasciando ampi interrogativi sull'importanza che riveste il significato del futuro per ognuno di noi.